I saluti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Salatania, oggi siamo qua su Train Fever E' una veronastica con il treno merci tantissimo tempo fa e la serie continua Allora, quando ho cominciato la serie avevamo costruito le merci che portano carbone e il ferro Da qua a qua la portano qui alla raffineria e poi adesso ne devono trasportare tutte le merci qua in città Allora Quindi La zona industriale, dov'è? La zona industriale che ha bisogno di questo Allora Commerciale Perfetto, il giallo era a tempo libero Ok, questo qui allora bisogna dei beni infatti Ok, allora mettiamo una stazione merci C'è uno scarico merci proprio qui Prendiamo il bulldozer E rimuoviamo questa E la mettiamo qua Perfetto Adesso tramite il deposito che non so dov'è qui Compriamo dei Qua Uno, due, tre, quattro, cinque, sei direi La chiamiamo merci due La chiamiamo merci due Perfetto Perfetto Ok, il telò continua a portare carbone, quindi si produce carbone? No, perché? Perché quando si produce carbone? Dai su, produci un po' di carbone Perfetto Allora Vedete che pian piano inizierà di nuovo a riprodursi Tutto Il problema però Ora che ci penso è Questi cavalli Le impostate sul carbone Infatti Quindi le riportiamo Tutti in deposito E le aspettiamo Tutti qua Ok, intanto colleghiamo questa acquistazione qui Con il resto della città Perfetto 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 Compriamone altri Però con Beni Cinque, sei Perfetto Un, due, tre Quattro, cinque, sei Ne dovete ammerci due Ecco Ora va bene Perfetto Quattro, lavoro no Qui lavora Quattordici Bene E qui invece produce Sedici E qua Ecco qua Come ho detto Tornata la produzione Bene Ora però Dobbiamo cercare Di portare Vediamo un attimo Le varie produzioni Di beni Ok 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 Come vedete Qui c'è un'altra Stazione Un'altra coda di ferro Direi di Metterla Farla tra binari Ecco qua Possiamo creare Dei binari Fino a La linea principale Per collegare Pure questa Fabbrica Qui E va Cercare di stare un po' Più bassi Qui Sì sì Lo so Lo so Che devo collegarla A gioco Oh yeah Ok Abbiamo sbloccato Dei nuovi Un nuovo mezzo Prima livelliamo Il terreno Qua Che sennò Diventa perutto Perfetto E qui Colleghiamo Perfetto E poi qua Facciamo Così Per poterlo Collegare Potete collegare il binario Fino a qua Benissimo Mentre intanto Vanno Bello Veloci E possiamo Creare Una nuova Linea Da qua Alla Però ovviamente Mettendo Collegando La stazione Se no Non funziona Beh Ops Cellulare E la chiamiamo La chiamiamo Treno Merci 02 Ok Ok Stiamo costruendo Solamente Semanfori Perfetto Dobbiamo andare bene Ok Benissimo Andiamo giù Il deposito Dei treni Quasi giù E compriamo Un treno Merci Ok Prendiamo questo Per il ferro grezzo 3 4 5 6 Ne prendiamo Di 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 cose E lo cloniamo Guarda qua Com'è sto freccia Oh yeah Un altro Camioncino Merci Abbiamo Sblocato Guarda qua Facciamoci il viaggio Il mio Sblocato Lo rosso No Verde C'è passaggio A livello Il ponte Ecco Che collega Per Le Passeggeri Passiamo In transito In una Sazione Vediamo Anche Il semifor Rosso Che fumera Ecco qua Il verde Passiamo In transito In una Sazione Ben Veloce Che siamo Collegate Passaggieri Un altro Punte Facciamo Zigzag Un altro Seguardo Si Un altro Corso C'è Qui un altro in carrocia galleria perfetto usciamo subito tanto un altro attreverso passaggieri ma non voglio quanti attreverso i passaggieri che passano passaggio a livello in città cambiamo binario andiamo su in montagna adesso andiamo su andiamo su in salita guardate che è il dislivello che c'è vediamo se il semaforo rosso vedete la paletta abbassata quando la paletta si alza vedete che è verde è un vecchio sistema di semafori questa ecco qua ecco qua ecco qua benissimo andiamo dritti o cosa? no andiamo su di qua non voglio drittamente alla fabbrica di beni la anche se però torneremo indietro vuoti subito bene 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 un altro collega merci perfetto ecco qua ecco qua ecco qua avanti fermo qua ecco qua ecco qua bella quanto ci mette qua il rosso e verde di diventare verde se no qua ci metteranno troppo tempo i treni grazie a tutti Perfetto Questa qui era la corsa Vediamo quanto produce qui Tre Vabbè dai Questo produce sicuramente tantissimo No anche quattro Allora vabbè mettiamo qui dei semafori Guarda che traffico che c'è Vedrai lì Eh ma no però dai Eh no Dai questo qui no Non possiamo farlo questo Due Per tornare lì facciamo Passare qua Perfetto Vediamo la situazione Economica e siamo in Oh siamo in salita Perfetto Ripaghiamo il prestito Di 3 milioni E non abbiamo più prestito con la banca Perfetto Benissimo Allora E quindi Vi ricordo che questo episodio va Va bene così Ok Quindi ho collegato Questa qui Questa qui Per raggiungere più ferro Io vi ringrazio per aver guardato questo video Mi raccomando Lasciato un bel like Iscrivetevi al canale Come vedete In questo video E vi ricordo che Per il prossimo episodio Magari colleghiamo Questa ferrovia qui Con questa città qua Io ancora vi ringrazio Per aver guardato questo video Un saluto a tutti E ciao Ciao